sei pronta? yes! ciak oggi amici e amiche di cilentano.it tenteremo un'impresa partire da palimuro e arrivare a salerno via costa cost to cost con tutte le interruzioni e le frane possibili e immaginabili ci faremo un bel bagnetto qua e la per cercare di trovare refrigeria vabbè anche ci abbiamo l'aria condizionata partiamo alle ore 11 e 55 vabbè è l'uno però l'aria porta 11 e 55 e noi faremo riferimento a quell'ora l'aria anche perché il vidi andremo fra quattro giorni quindi non ce ne vengono ci cambia la vita va bene partiamo da palimuro problema numero uno già prima di arrivare a pisciotta troviamo la interruzione dobbiamo andare giù per la stazione a pisciotta ci arriviamo dubbio ammoletico passare o non passare decidiamo di passare a 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 marina a 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 deviazione andiamo a vedere il lungomare delle tartarughe o l'ultima volta che andiamo a san marco ti disse voglio andare qua e siamo andati a 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